Buongiorno a tutti, sono Cristiana Mancinelli, oggi ho il mandato del Movimento Nazionale Stop al Consumo di Territorio, aderente al Forum Salviamo il Paesaggio e questo è quello che vi leggo. La notizia è che 8 uomini abbiano una ricchezza personale equivalente a quella di 3 miliardi e 500 milioni di persone ha avuto l'effetto deflagrante di un petardo. È questa la conferma di una sconfitta definitiva di ogni pensiero democratico, ha servito con convinzione al diritto di accumulo, alla speculazione, al consumo disinibito. Dopo la caduta del muro di Berlino, tutte le teorie di una società più equilibrata, moderata da una qualsiasi forma di redistribuzione, sono state colpevolmente abbandonate. Ogni sinistra del pianeta ha virato al centro, abbandonando criteri e forme che l'avevano cresciuta, abbracciando il liberismo e rinunciando a quelle regole base che avevano favorito l'affrancamento delle fasce deboli. Regredisce l'insegnamento, la cura, l'assistenza, la preparazione. Il pensiero dominante dell'apparenza e della competizione sfrenata dell'umanità, trasformata in merce di scambio e in massa di consumatori seriali incalliti, ha vinto. Basta vedere le folle vaganti nei centri commerciali la domenica, i malati da gioco d'azzardo in ogni bar, le attese notturne davanti alle catene dell'elettronica per possedere l'ultimo modello di smartphone, che è una parola inglese che significa telefono intelligente. È saltato ogni freno inibitore, l'ignoranza non fa più vergogna, anzi, riceve l'applauso dei nuovi fedeli del populismo imperante. In ogni campo sociale avanza l'impreparazione, l'approssimazione, l'appropriazione indebita, a danno di fasce deboli, incapaci di organizzazioni, anziani soprattutto e giovani dal futuro fosco. Come gruppo in movimento nazionale Stop al Consumo di Suolo, aderente al forum Salviamo il Paesaggio, ci battiamo per questo. Tutela del paesaggio, Stop al Consumo di Suolo, che generano benessere e vita per tutti gli abitanti del pianeta che vogliamo difendere con le unghie e con i denti la Costituzione che le protegge le nostre esistenze. Un ringraziamento va all'infaticabile Professor Maddalena, che è di sostegno a innumerevoli comitati. Noi siamo decisi ad applicare i suoi insegnamenti attraverso lo strumento della Costituzione e attraverso il contributo di voi tutte e di voi tutti. Quindi consentire a otto persone di accumulare i beni inutilizzati e preziosi di tre miliardi e mezzo di altri umani è innaturale, un sovvertimento. Siamo andati oltre ogni limite accettabile per un pianeta dalle risorse illimitate, finite, inesaurimento. È un delitto inenarrabile, un orrore infinito, è un tumore inguaribile. Abbiamo perso la dignità ed è ora di reagire. Grazie. 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 Grazie.